Avanti con le terze dosi, dopo aver provveduto a somministrarle alle categorie più fragili, la Puglia procede la campagna del vaccino anti-Covid con gli ultra-sessantenni, sempre a distanza di sei mesi dalla seconda dose. Ma di fronte ai segnali di incremento dei casi, l'assessore alla sanità della regione Puglia, Pierluigi Lopalco, auspica ai microfoni di Antena Sud l'estensione della terza dose all'intera cittadinanza. È inevitabile che in autunno-inverno i virus respiratori circolino di più. Il Covid è uno di questi, cioè il SARS-CoV-2 è e sarà per il prossimo futuro uno dei tanti virus respiratori che durante la stagione autunnale-invernale riprenderà la circolazione. Con la barriera vaccinale che noi abbiamo, io mi sento abbastanza sicuro che questa circolazione virale non si trasformi poi in un sovraccarico per il servizio sanitario. Chi ancora non si è vaccinato, corre a vaccinarsi. È favorevole un'estensione all'intera platea e non solo agli ultra-sessantenni? Ma sicuramente sì, guardi, non fosse altro per una questione di semplificazione procedulare. Tanto sappiamo che due dosi di vaccino ad un certo punto diminuiscono la loro efficacia, soprattutto nell'infezione. Ecco, con due dosi di vaccino andare a fine ospedale abbiamo visto che è molto difficile, anche dopo sei mesi. Però non blocchiamo la circolazione del virus. Se rafforziamo questa barriera anche con una terza dose ad una popolazione più vasta non potrà che rallentare la circolazione del virus, renderlo sempre più endemico e non farci più paura. Dello stesso parere anche Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto. Aspettiamo di avere notizie ma noi siamo pronti ad adeguarci a quelle che sono le direttive.